Gravissimo incidente questa mattina alla Mezzaterme in provincia di Catanzaro, lungo la strada che dalla statale 280 conduce all'aeroporto. La vittima era residente a San Pietro Apostolo e lavorava per un'impresa che svolge servizi stradali per conto dell'ANAS. Il giovane operaio che lavorava proprio nel cantiere nell'area della rotatoria di San Teufemia stava segnalando agli automobilisti un altro incidente avvenuto poco prima fra due vetture. Ha cercato il più possibile di rendersi visibile sulla carreggiata quando è stato travolto tragicamente. Sul posto sono intervenuti oltre al personale del 118 anche gli agenti della Polizia Stradale e una pattuglia dei Carabinieri. Sulla vicenda si è aperta un'indagine. Il conducente della vettura che l'ha investito si è fermato per soccorrere il giovane. La sua posizione è adesso al vaglio di Carabinieri e Polizia Stradale che stanno svolgendo le indagini sotto direttive della Procura della Repubblica di la Mezzaterme. Si sta valutando nello specifico la velocità con cui stava procedendo il conducente dell'auto e se fossero stati attuati in maniera corretta le segnalazioni del precedente incidente e del restringimento di carreggiata per lavori in corso.